Ciao bimbi! Oggi studiamo sull'abaco i numeri da 11 a 20. Aggiungo una unità al numero 10, ottengo una decina e una unità, cioè il numero 11. Poi aggiungo ancora uno e ottengo una decina e due unità, cioè il numero 12. Ora facciamo insieme più 1, 13, più 1, 14, più 1, 15, più 1, 16, più 1, 17, più 1, 18, più 1, 19. Ancora più 1 e ho 10 unità, che non ci stanno sull'asta delle unità. Le prendo tutte e 10 e le trasformo in una decina. Ora ho due decine che si leggono 20 e 0 unità. Eccolo qua, è il numero 20.